noooooooo buongiorno ragazzi oggi siamo su turbo slider unlimited colossale e andiamo subito nel customize perché qui ragazzi abbiamo 16 auto questa è la macchina dei miei sogni è stratosferica bellissima super mega galattica poi abbiamo questa qui abbiamo quest'altra questa qui tutta non posso girare però niente alettone ruotazze tutte storte questa qui gt40 quest'altra lambo quest'altra devastante ce l'abbiamo su gta formula 1 quest'altra qui tipo mezzo volvo mezzo che ne so io ce l'abbiamo anche su gta un altro nome però questa qui cos'è una mustang una supercar mannaggia poi la camaro poi questa è una aston se non sbaglio questa non lo so me lo dirà la chat bugattozza mega galattica e poi dovrebbe essere una miatta una qualcosa di simile ma noi andiamo con questa allora se vi piace possiamo andare a fare la campagna ma per ora facciamo un bel quick game possiamo fare anche un custom game dove giocare tutti quanti insieme guardate che roba sportive dritti grippi speedy chiuso volo random different random va bene player count 20 ea skill medium event 3 laps 3 magari mettiamo due first event star position ghost race draft ok weapons no weapons missile for humans missile for everyone solo per gli umani minimo missile reload time mettiamo 15 non so cosa sto facendo raga ma macchine sportive star game e ci siamo no 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 non so i tasti o raga si vede che non so i tasti restartiamo l'event riproviamo tutto questa volta con il mega pad dovrebbe dovrebbe un attimino spiterina spiterina con il mega pad dai 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 forza la combola non buttatemi fuori maledetti ma che competitivi che siamo così adesso vai 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 l'ho preso ma non sono riuscito a calanciarlo via via spostati maledetto via devo passare io maledetti nooo no è così oh la patena è top prendiamoci subito all'interno come l'ho detto guarda che bella curva che abbiamo fatto mamma mia secondi madre mia ti tira l'inza vai 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 eh non ci voleva quello guarda in cadena in cadena via 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 bella questa bella questa mannaggia mannaggia abbiamo perso tutto vai macchinetta rosa levati va bene va bene dai devo lanciarlo quasi un pelino prima il il missilozzo ma già gradino del podio e così il quick match è finito bella guarda qui le macchinozze da drifting bella bella questo ti diverti qui ti diverti un botto guarda qui il quick si vera pony bellissimo bellissimo e trevi dai macchina rosa via stonico ci stavo prendendo gueno almeno la top ten raga riusciremo a prenderla guarda qui è stato controproducente questa è stato ha detto il pattene la pattene è nostra si, top via bollambo trovatevi tutti maledetti l'expedit c'è un po' di roba bollambo bollambo E' un'unitante! E' un'unitante! E' un'unitante! E' un'unitante! di cazzire l'aria di nuovo via 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 ora il giallo come viaggì viaggia viaggia il giallo dai levatevi maledetti e niente esplorate tutti farei un quick match ma le weapons sono per tutti ok l'auto fastidio ma la modalità è devastante che schifo quindi diciamo che non si può giocare così è impossibile una è volata di sotto bellissimo ma la macchina fa schifo oh vedi che adesso ognuno ha un'auto diversa dall'altro bellino così da esplosive all'ennesima potenza nooo c'è anche il salto ma che gare belle sono final lap final lap guarda c'è il mega saltazzo da fare no no che parola maledetto no no non farmi spavodere molto bene no bello questo mi è piaciuto perfetto questo qua è il gioco fatemi sapere se vi piace o no che al limite andiamo a spararci la campagna detto ciò vi solito vi ringrazio al prossimo video grazie a tutti